Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Una lite è stata assedata sabato sera dalla polizia in un appartamento di Senigallia. L'episodio si è verificato nella tarda serata quando i vicini hanno segnalato al 113 una violenta lite con urla e rumori. La polizia è arrivata immediatamente e appena hanno bussato alla porta la situazione è tornata alla normalità. Lei, infastidita dalla presenza dell'ex compagno, si è fortunatamente calmata e avrebbe deciso di non sporgere denuncia nei confronti dell'uomo, un cinquantenne senigallese con precedenti per stalking. C'è tensione nel comune di Ostravetere. Ad alimentarla è un comunicato di Montenovo Nostro che si occupa di analizzare la situazione dell'amministrazione che sarebbe risultata inadempiente in tema di remunerazione contrattuale dei dipendenti comunali. Il comunicato si conclude chiedendo urgenti chiarimenti al sindaco che sarebbe responsabile, secondo Montenovo Nostro, di avere pregiudicato l'interesse economico del comune. Sanità. Si torna a parlare della ipotesi di chiusura del reparto di cardiologia dell'ospedale di Senigallia. Questa volta a farlo è l'associazione Cuore di Velluto Onlus, attraverso alcune domande rivolte alle istituzioni. Quali sono le funzioni, l'organizzazione e la struttura dell'unità di terapia intensiva cardiologica? Cosa deve garantire la rete ospedaliera per il cardiopatico acuto? Per rispondere a queste domande l'associazione intende anche organizzare presto un incontro pubblico. Dal 2 ottobre sono aperti termini per presentare le domande dirette a ricoprire in futuro la carica di presidente o scrutatore di un seggio elettorale a Senigallia. Per quanto riguarda l'albo degli scrutatori sarà possibile presentare la domanda fino al 30 novembre, mentre per l'albo dei presidenti di seggio la scadenza è fissata il 31 ottobre. I moduli per presentare le domande sono scaricabili sul sito del comune di Senigallia. Parliamo di prevenzione e parliamo quindi dell'ottobre in rosa. L'associazione Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Senigallia, si impegna da molti anni nell'ottica della prevenzione e riabilitazione con molte attività e progetti rivolti a tutta la cittadinanza. In particolare durante l'ottobre in rosa cerca di sensibilizzare e informare meglio le donne e tutta la popolazione del territorio sul tumore al seno e sulle varie tecniche e modalità di prevenzione e riabilitazione con la partecipazione di professionisti all'avanguardia in campo nazionale e internazionale. Parliamo delle iniziative del mese di ottobre in compagnia della presidente dell'Andos di Senigallia, Maria Antonietta Muzzi. Per informare meglio e sensibilizzare meglio le donne abbiamo fatto questo casebo che dal 2 all'8 sarà presente vicino alla Banca Nazionale del Lavoro dove offriamo sia la possibilità di ricevere delle brochure su cui vengono indicate le modalità per ricevere l'appuntamento e le visite senologiche che sono gratuite presso l'ospedale di Senigallia. L'8 ottobre si terrà invece presso l'Auditorium San Rocco un importante incontro con il dottor Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. La mattina del 21 ottobre ci sarà sempre all'Auditorium San Rocco un convegno dell'Andos. Ogni anno noi cerchiamo di portare a Senigallia delle eccellenze. Quest'anno abbiamo portato a Senigallia il professor Rigotti. Il professor Rigotti è il presidente internazionale di chirurgia plastica ricostruttiva di Verona che ricostruisce il seno con il nesto di tessuto adiposo. È un suo vanto perché è stato riconosciuto questo metodo in America e adesso poi è seguito in diversi ospedali. Indubbiamente il professor Rigotti è uno dei precursori di questa tecnica da cui c'è sempre da imparare. Il centro commerciale Ipersimpli di Senigallia inizia l'autunno a suono di rock con un evento musicale. Domenica 8 ottobre alle 17 Marco Ligabue sarà il giudice della terza edizione della Music Gallery, il talent giunto ormai alle semifinali. Fratello di Luciano, classe 70, Marco Ligabue si esibirà in qualità di giurato e con un mini live in galleria. Chiosa con la partita di domenica prossima tra Anconitana ed Arcevia che da Arcevia è stata infatti spostata su richiesta della società arceviese nel campo di Senigallia. Si giocherà infatti proprio allo stadio Bianchelli di Senigallia domenica prossima 8 ottobre la attesissima sfida e immaginiamo anche seguitissima sfida tra Arcevia e Anconitana nella terza giornata del campionato di prima categoria, girone B. È tutto per questa edizione di Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.